Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, continuiamo a parlare di politica regionale in questo spazio di approfondimento, lo facciamo incontrando, ospite nei nostri studi, il capogruppo regionale della Lega, Vincenzo Dincecco. Buonasera Dincecco. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Allora, come con altri presidenti dei gruppi consigliari di questa legislatura regionale che si avvia alla fase conclusiva, mancano 5 mesi, ormai la data è stata decisa per le elezioni e quella del 10, probabilmente anche l'11 marzo se si riuscirà a avere anche il secondo giorno di elezioni, facciamo un bilancio sull'attività che avete svolto a Palazzo dell'emiciclo in questi 5 anni. Per la Lega sono stati 5 anni che sono partiti da una vittoria elettorale di indubbia proporzione, il primo gruppo presente a sostegno della maggioranza di Marco Marsiglio, una forte presenza in giunta, poi ci sono stati eventi anche nazionali e locali che hanno determinato qualche emorragia. Ma il dato politico, intanto le chiedo, poi ovviamente parleremo anche delle situazioni riguardanti i singoli casi, ma il dato politico della presenza della Lega nella giunta, nella maggioranza regionale alla fine di questi 5 anni, qual è Dincecco? Ma intanto saluto i telespettatori, io credo che la Lega sia partita da un grandissimo risultato che è quello del 2019 e abbia contribuito insieme agli alleati a costruire 5 anni di governo molto intensi, che chiaramente ci hanno visti protagonisti di tante scelte, anche positive, ma soprattutto ci hanno anche fatto passare la bufera della pandemia con una certa coesione e anche con la capacità di affrontarla come regione, partendo da un problema e trasformandolo poi in una sorta di opportunità. Perché se pensiamo che nel 2020, probabilmente all'estate del 2020, ha visto l'Abruzzo come una delle regioni prese d'assalto dal turismo nazionale e internazionale, questo evidentemente è un dato di fatto, siamo riusciti a contenere all'interno di una regione che comunque è piccola e circoscritta i dati pandemici per poi ripartire con numeri importanti. Gli ultimi numeri ci dicono anche che a livello di esportazione siamo tra le prime regioni in Italia. Quindi io credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro di squadra e come Lega abbiamo saputo apportare nuove energie, nuovi eletti, quindi una pletora di consiglieri regionali che comunque si è cimentati in una campagna elettorale particolare, che ha visto poi una serie di nuovi eletti, nuove persone che hanno saputo districarsi all'interno dell'amministrazione regionale e oggi sicuramente una squadra compatta, coesa, con qualche numero in meno come sicuramente lei ha detto, ma frutto di scelte di dinamiche più nazionali e più di costume politico attuale. Ecco, in particolare richiedo un giudizio sull'operato delle vostre due punte di diamante all'interno della giunta regionale, deleghe pesantissime, quelle di Emanuele Imprudente che comunque è stato vicepresidente della regione in questi cinque anni, e di Nicoletta Veri sulla sanità, tema che lei ha seguito con particolare attenzione. Ma intanto io non trascurerei anche la delega al sociale e alla formazione dell'assessore quaresimale, noi abbiamo avuto deleghe importanti. Poi dovremmo parlare anche di Campitelli, insomma, anche del suo lavoro. Assolutamente sì, noi abbiamo avuto deleghe importanti, probabilmente non le più importanti, su questo probabilmente nella fase della gestione e della costruzione della giunta avremmo potuto lavorare su dinamiche diverse, ma comunque abbiamo avuto deleghe importanti, deleghe importanti sulle quali ci siamo contraddistinti. Io credo, partendo anche dal ruolo del vicepresidente della regione, che credo abbia lavorato con pacatezza e con una certa professionalità, i fondi del PSR spesi e erogati dalla regione in questi cinque anni sono stati notevolmente migliorati e aumentati, anche grazie a una struttura dirigenziale importante fatta di persone capaci. Oggi abbiamo, e passo dall'assessore imprudente all'assessore quaresimale, abbiamo 70 milioni di euro di bandi a partire da garanzie giovani, a forme di aiuto all'assunzione a tempo determinato, indeterminato, di under 36 e over 36, sussidi per le famiglie in povertà. 70 milioni di euro in questo momento sono sul portale della regione Abruzzo, su sette bandi diversi per il sostegno, la formazione, il lavoro, e quindi questo è un dato importante. Abbiamo, l'anno scorso, approvato il piano sociale regionale di circa 450 milioni di euro, il più grande piano sociale della regione Abruzzo degli ultimi anni, che chiaramente si rivolge agli ECAD del territorio abruzzese, dando anche risposte a quelle che sono necessità del territorio a seguito appunto degli anni di pandemia e quindi agli enti locali, alle necessità delle nuove forme di povertà, alle nuove forme di assistenza che dobbiamo per forza di cose mettere in campo per risolvere i problemi attuali della società. E poi in un ultimo al tema sanità. È chiaro che la sanità è un tema scottante, complicato in tutte le regioni, dalle più virtuose alle meno virtuose italiane. Certamente noi abbiamo, credo, affrontato il tema della pandemia con grande professionalità e lo abbiamo superato anche con numeri importanti. E poi oggi ci approssiamo ad approvare la redd ospedaliera, che credo sia un grande risultato, perché la regione Abruzzo ha salvaguardato quelli che sono gli ospedali delle aree interne nella redd ospedaliera, ha avuto il via libera dal Ministero. Quindi nelle prossime settimane avremo finalmente sul tavolo del Consiglio regionale della Commissione dell'approvazione della redd ospedaliere e credo questo sia anche un altro grandissimo risultato di questa amministrazione, dell'assessore della sanità, della Lega. Chiaramente tutte queste cose insieme fanno un lavoro scuro, ma anche di prospettiva che secondo noi porterà l'Abruzzo in crescita nei prossimi anni e sanerà un po' di cose che avevamo detto anche in campagna elettorale. Avevamo posto a tema del nostro lavoro la salvaguardia degli ospedali e delle aree interne e un obiettivo che abbiamo raggiunto con una redd ospedaliere approvata insieme al Ministero. Quindi questo ci dà forza e ragione del nostro lavoro e del nostro impegno sul territorio. Togliamoci subito il dente, Campitelli, cosa le è dispiaciuto di ciò che è accaduto? Cosa le è dispiaciuto anche di chi l'ha accolto in qualche modo altrove? Guardi, la politica di oggi è una politica particolare. Così come i partiti crescono e diminuiscono rapidamente, e così i testimoni dei partiti spesso si muovono in base a quelle che sono le dinamiche più che elettorali sondaggistiche. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, è un po' un must a livello nazionale, non solo a livello locale. Ora, cosa ha spinto l'assessore Campitelli a uscire dalle levi? Io questo non lo so. Chiaramente rientra nei suoi ragionamenti politici, e anche politici, ma anche forse umani e personali, questo non ne ho idea. Certamente noi abbiamo posto un tema, è un tema importante, un tema sul cui crediamo. Quando si viene eletti in seno a un consiglio regionale, in seno a un consiglio comunale, si viene eletti come consiglieri. Poi c'è un passaggio che porta i consiglieri a essere nominati assessori, piuttosto che sottosegretari o presidenti di commissione, ma soprattutto il ruolo più importante è quello di assessore, all'interno di una giunta. Questo passaggio è in qualche modo definito da un lavoro dei partiti, quindi sono i partiti che indicano e danno in un dialogo con il presidente della giunta il via libera affinché uno o più dei propri eletti assumano il ruolo di consigliere, quindi la delega o delle deleghe specifiche. In questo caso crediamo tutti che per ridare anche un senso alla politica, che come ho detto prima in questi tempi vede una sorta di fluidità un po' troppo eccessiva, chi ha svolto il ruolo di assessore, quindi con delle deleghe importanti per 5 anni, è ovvio che non possa candidarsi in un partito alleato all'interno di una coalizione che vuole lavorare altri 5 anni insieme. Questo è un dato di fatto perché quel ruolo lo si è conquistato in virtù di una maglietta e di un percorso stabilito all'interno di un'altra famiglia e quindi questo credo che sia un ragionamento che noi dovremmo tenere presente e a bada per tutti, per tutti i partiti, per il futuro, perché probabilmente se all'interno delle nostre dinamiche, delle nostre regole, noi prendessimo per buono questo tipo di ragionamento sarebbe forse anche utile affinché questi fatti non accadano più così rapidamente e così fluidamente. Ecco, Vincenzo Dincecco, intanto le chiedo se si ricandiderà, ma penso che la risposta sia scontata, soprattutto le chiedo anche una piccola cosa, che lei vuole appuntarsi come medaglia del suo lavoro, non di capogruppo, ma di consigliere regionale in questi 5 anni, di cosa va più orgoglioso? Dunque, io credo, intanzi tutto penso sicuramente di ricandidarmi, sono al lavoro per ricandidarmi, dopo 5 anni molto intensi, chiaramente hanno cambiato anche le dinamiche della mia vita personale, però chiaramente è un impegno che ti rende orgoglioso perché lavori per tutto il territorio, è un impegno che ti fa conoscere realtà e dinamiche abruzzesi che magari non conoscevi, che allarga anche le conoscenze del territorio, quindi questa è una cosa che mi ha fatto piacere fare in questi 5 anni e per la quale io mi riproporrò in queste elezioni. Credo che il mio impegno sia stato un impegno di piccole cose, io ho lavorato tanto in questi 5 anni per costruire una rete di amministratori e per dare risposte ai territori, ho lavorato anche in consiglio comunale per fare questo, poi mi sono dimesso anche per dedicarmi di più al consiglio regionale, penso di aver messo la mia firma su diversi interventi e disegni di legge che avranno, penso una prospettiva importante. Sono orgoglioso anche di un dato e di un evento che prossimamente sarà ospitato nella città di Pescara, cioè la prima, ad esempio, fiera della birra artigianale abruzzese. Abbiamo approvato due anni fa una legge che valorizza il nostro territorio attraverso la valorizzazione delle birre artigianali, ecco il 10 e l'11 novembre l'Arap organizzerà la prima fiera della birra artigianale abruzzese verso il padiglione Becci a Pescara e sarà una pietra di un percorso che abbiamo avviato che riguarda non solo il nostro territorio, ma riguarda le nostre culture e la capacità imprenditoriale di tanti di mettersi in gioco in un mondo che ci vedeva in qualche modo arretrati rispetto ad altre regioni, è una cosa di cui mi sento particolarmente orgoglioso perché l'ho pensata, l'ho scritta, l'ho firmata insieme a tante altre cose, penso all'esonero delle spese sanitarie per le forze di polizia durante il servizio, penso alla legge che andrà nel prossimo Consiglio regionale che permetterà la tumulazione degli animali domestici all'interno dell'oculo con il proprietario, una serie di piccole cose che comunque ci porta e ci pareggia e ci mette al pari con altre regioni, poi è chiaro abbiamo contribuito in tanti modi delle finanziarie regionali, con investimenti importanti sui territori, contributi ai comuni per opere pubbliche, tante cose che abbiamo fatto in questi 5 anni e che credo ci contraddistingueranno anche in campagne elettorali, io sono convinto che questa squadra sia una squadra che ha lavorato tanto, tanto e con grande passione e poi saranno gli cittadini abruzzesi a dire la loro sul percorso futuro. A proposito di campagna elettorale non posso non parlare della sua città, Pescara, ma anche di Montesilvano e Giulianova, nei giorni scorsi c'è stato un vertice al centrodestra, è stata data fiducia alla ricandidatura dei tre sindaci uscenti, due dei quali appunto De Martinis e Costantini sono proprio della Lega, insomma da questo punto di vista sembra esserci il sereno nel centrodestra regionale, qualche frizione appunto forse su qualche candidatura al regionale, ma il clima della prossima primavera elettorale in generale anche nella sua città Pescara come lo vede Dincecco? Intanto la riunione che abbiamo fatto a Pescara lunedì mattina è stata una riunione serena, anche abbastanza rapida nella quale abbiamo analizzato lo scenario delle amministrative, chiaramente abbiamo tre comuni sopra i 15 mila abitanti, quelli che hanno una sorta di interesse particolare perché vedono la competizione delle liste con i simboli di partito e quindi abbiamo stabilito un principio che abbiamo intanto intascato la disponibilità, accolto la disponibilità dei sindaci a ricandidarsi perché non è mai detto che magari un sindaco voglia ricandidarsi per secondo mandato, questo è un dato di fatto, abbiamo sul tavolo tutte e tre disponibilità a ricandidarsi da parte dei tre sindaci di queste città, abbiamo avviato un principio che è quello che più o meno regola queste attività, quando c'è un secondo mandato nelle città dove si governa di solito c'è una riconferma, quindi su questo c'è una sinergia da parte dei partiti della coalizione, quindi non ci saranno problemi, non dovrebbero esserci problemi, quindi sicuramente questo sarà il percorso che sarà avviato e sarà concordato per i prossimi mesi, poi è chiaro ci sono ancora 8 mesi, quindi ci sono di mezzo le elezioni regionali, ci sono tante valutazioni da fare anche rispetto a una campagna elettorale che entra nel vivo e chiaramente entrerà nel vivo prima quella delle regionali, poi quella delle amministrative e poi c'è il tema chiaramente delle europee, quindi saranno mesi molto caldi da questo punto di vista, siamo pronti ad affrontarli con serenità e anche con la convinzione che gli abruzzesi avranno di fronte una doppia proposta e sanno qual è la proposta nostra, soprattutto la conosco, sanno quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, sanno che ci ripresenteremo uniti e compatti e forti per ridare 5 anni di slancio e raccogliere anche i frutti di quanto abbiamo seminato, perché magari non abbiamo toccato altri temi, il testo unico sulla cultura, la legge sul riordino delle comunità montane, dei consorzi di bonifico, noi abbiamo fatto tante cose che magari nei prossimi mesi vedranno anche gli effetti reali, ci apprestiamo a gestire quasi un miliardo di Euro di FSC, di fondi strutturali che ci serviranno a fare scelte importanti sulla regione Abruzzo, quindi ci sono tante cose che questa regione ha fatto e che ha preso come base per costruire le prossime 5 anni e su questo siamo convinti che i cittadini brussesi sapranno scegliere con serenità. Grazie, grazie a Vincenzo Dincecco, grazie ai nostri telespettatori per averci seguiti e appuntamento alle prossime occasioni. Grazie a voi, grazie ai telespettatori.